Toto, 8 vittorie consecutive, 24 set vinti consecutivi, insomma, sono numeri da far volare altissimo, ma non da perdere la testa, sappiamo bene voi. No, 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 la strada è lunga, lunghissima, quindi rimaniamo con i piedi per terra, resta il fatto però che, come hai detto tu, stiamo facendo le cose davvero in grande. Penso che uno dei segreti sia il fatto che non stiamo tanto a guardare fondamentalmente quanto stiamo, oppure pensiamo di vincere ogni punto e poi quello ci porta a spuntarla in ogni set. Quindi siamo contenti come stanno andando le cose, questo ci sta fiducia per il futuro, continuiamo a lavorare così. Conoscendo Angelo Lorenzetti immaginiamo che non si stia assolutamente accontentando, ma che continui a spingere sempre sull'acceleratore. Ecco, cosa vi ha detto dopo la partita e cosa vi sta dicendo nella quotidianità? No, era arrabbiato, durante il secondo set era arrabbiato perché facevamo troppi ace e non riuscivamo a fare il contrattacco, no? Quindi, no, però lui ci tiene sempre sotto pressione, fa bene perché è una pressione positiva quella che ci mette, sa che dobbiamo lavorare stando lì su in classifica sui nostri limiti più che sulle altre squadre. Quindi dobbiamo lavorare su noi stessi, è un gap sottile, un range sottile, quello su cui possiamo lavorare, però è lì appunto dove possiamo fare il salto di qualità. Domenica arriva Latina, una squadra, insomma, viene da una sconfitta, è vero, contro Verona, ma è un avversario da non sottovalutare assolutamente. Sì, sta facendo molto bene, nelle posizioni altissime della classifica, quindi è subito dietro il quartetto di testa. Dobbiamo stare attenti perché è dato il filo da torcere a Piacenza, come tu eri in vantaggio, ma anche a Trento la domenica prima, quindi dobbiamo davvero stare attenti, sarà una partita complicata, dobbiamo essere bravi a partire subito con il piede sull'acceleratore. Grazie a tutti.